Adesso festeggio Pasqua, non vedi? MS e Whatsapp Ed ora io sto già condividendo dalla nostra pagina Facebook direttamente con voi Calcio e Pepe Trattino 6 la TV la nostra fotografia di Rito Assolutamente, pagina Facebook con un calcio all'inizio Aspettiamo il vostro like Una Alice Bertelli in versione portiere Portiera in questo caso Sai che io adoro i portieri Eh lo so, ma non quelli d'albergo, quelli che sono in campo Se una scotta Patrice Io direi di andare con i risultati Ah, ok, la lasci scottare ancora un po' Sì, la lascio scottare, a fuoco lento Eccellenza, eccellenza Girone B Albino Gandino Rodense 2 a 1 Brugherio Rivoltana 2 a 3 A sabato prossimo Con il pareggio a Villa Dalmè il Crema ancora non può festeggiare aritmeticamente una promozione che peraltro comunque ormai è pressoché certa perché bisogna aspettare il risultato della casa Tesero-Goredo Se dovesse vincere va oltre i 9 punti di distacco e quindi ancora il Crema dovrà fare un punticino o due per certificare questa promozione che ormai nessuno mette in discussione Abbiamo visto tanti risultati interessanti ovviamente anche quello del Caprino e qui chiamiamo in causa il Presidente Austoni Da quando non c'è più raggi sulla panchina del Caprino 4 vittorie consecutive Pres, guardami un po' negli occhi anzi tolgo gli occhiali che è successo E adesso noi? Noi cosa? Dimmi tutto Alice Che noi vi lasciamo alla nostra pubblicità Ah non pensavo ci fosse un rendezvous così all'interno della pubblicità va bene mi hai illuso così Va bene tra poco anche i messaggi giusto? Ah tra poco abbiamo ancora molto da dire Rieccoci insieme io e Alice qui all'interno di Calcio e Pepe sul canale 216 di E6 la TV canale 216 del Digi del Restre con Giovanni Astori allenatore del Ponte Iranico Claudio Cambianica Presidente del Casazza Giancarlo Austoni Presidente del Caprino Marzio Lugnan Ah va bene che è successo? Hai sbagliato tastino? No oggi c'è un orologio che brilla che mi fa un po' sbarellare Va bene Eh Luciano siamo vicini a Pasqua Quello di Marli me lo fai trovare nell'uovo di Pasqua? Va bene addirittura vostro duetto stavo osservando la maglia la t-shirt di Claudio Cambianica Presidente del Casazza Vero questo signor Piazza Lunga con la tua presenza hai galvanizzato la farfalla stezzanese Allora Sì